E' bello, è bello, sembri quasi un professionista, è molto... Cioè, è emozionante. Sì, sì, mi piace molto, perché mi identifica, possiamo dire. Mini, perché io sono un po' basso, sono basso, e Pete perché mi chiamo Pietro e di conseguenza... E' anche stimolante perché ti puoi confrontare con giocatori della tua età, ma di altre società, con altre realtà, sempre di NBA e Ciucai. Puoi conoscere gente nuova, infatti prima di ogni partita comunque ti iscriviamo. E comunque c'è anche la competizione, però è sempre, diciamo, in modo amichevole. Tutto, diciamo, ogni minimo particolare di questo sport mi appassiona. Cioè, è un amore per questo sport. Proprio per questo sono molto felice di rappresentare la Junior anche in questo contesto di sport. Diciamo che c'è poco da parlare perché, infatti, a un certo punto del riscaldamento lui viene da me, mi fa un gesto con la mano e io, cioè, diciamo, so già cosa fare. Credo che l'abbiamo fatto tutte le partite. Credo anche la prima che sono andato a fare lo spazzolone. Diciamo, si può proprio considerare come un rituale pre-partita. Mi sento più particolare di altri giocatori. Diciamo che giocatori come me non tutti i giorni si vedono. Anche non tutte le squadre ne hanno uno. È quello il mio sogno che cerco di fare avverare. Magari del passato, NBA come del passato Maxi Boggs, Spadweb o anche magari più attuali come Nate Robinson o Isaiah Thomas. Però europei mi piace molto Marcus Green e, diciamo, sono loro i miei idoli, possiamo dire. Roberts mi piaceva molto per, diciamo, il suo bagaglio tecnico. De Negri mi piaceva molto anche, mi baso un po', cioè, cerco di imparare da lui anche. Valentini, diciamo, quasi tutti i giocatori del mio ruolo, cerco di prendere qualcosa da loro, possiamo dire. M.B.A. per lo più, sia attuale che passata, tipo The Last Dance mi è piaciuto molto. M.B.A. prima di tutto è uno spettacolo, ha tutti gli effetti. Poi anche, diciamo, l'aria che si respirava, i tifosi, non tanto di Milano ma più della Stella Rossa. Era, cioè, era molto bella la sensazione. Un tiro allo scadere di una partita importante, credo. M.B.A. per lo più, sia attuale. M.B.A. per lo più, sia attuale.